Cos'è questa figura che vedete qui sotto? È un rombo? Un quadrato? No, è un cerchio. Tranquilli, non è un'illusione ottica. Perché non siamo in geometria euclidea, siamo nella TaxiCab Geometry, nella geometria dei tassisti di New York. Volete saperne di più? Allora incontriamoci domenica 6 marzo alle ore 15 ad Asia, Bologna. Parleremo di euclide, di geometrie non euclidee, della rivoluzione formalista ilbertiana, di Einstein, di spazi e tempi curvi, di relatività generale. A presto!